si ho incontrato roberto floriano spiego con dopo la ciao allora ragazzi vi spiego tutto allora e mi spiego come ho incontrato roberto floriano l'attaccante con la numero 7 il palermo che però ha fatto 3 gol ci può stare cioè non ci può stare perché è un bomber però ai ci sta allora allora variante e io avevo finito l'evento sto parlando con il mio amico e rosso sangue antonino è presente e allora allo stadio delle palme esco allo stadio delle palme parliamo un po così palermo per parlare così visto che mercoledì ci abbiamo una partita amichevole abbiamo parlato come organizzarci che schemi fare che ti mettermi in campo e poi mettermi in panchina c'è da consigliare al mister io vado nel marciapiede incontro uno con il telefonino anzi con la musica che si sta ascoltando e roberto floriano chiedo roberto floriano sei tu mi ha detto sì e ci siamo fatti la foto e niente ragazzi vero troppo contento perché incontriamo un giocatore il palermo che la mia scuola del cuore è troppo bello anche se il palermo gioca in 3 c però ragazzi io dico da da persone che ho incontrato alcuni giocatori tipo brignoli nestoroschi e rispoli che non ho le foto perché ce le ho negli altri telefoni e poi incontrato faraone il terzo il portiere della primavera matranga e poi poi ho incontrato e poi non mi ricordo che ho incontrato però ragazzi è troppo bello cioè troppo bello ragazzi è troppo 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 e niente ragazzi il video finisce qui un saluto da manfredo niente domani con reaction più voti a bulgaria ciao